freelance camp è smettere di lamentarsi e cominciare a cambiare una meravigliosa idea e soprattutto bellissime relazioni per essere sempre più free ma sempre più in rete una specie di capodanno dei freelance adesso chiamerei sul palco fabiana palù che ha preparato insieme a pamela nerattini che non è qui con noi ma in spirito sicuramente un laboratorio sui prezzi fabiana grazie non so se un tolco laboratorio una roba mezza via tra come dire tra i due forse qualcuno di voi ha partecipato a uno zoom club sul tema prezzo lo scorso mese io e pamela che ahimè assente a proposito per priorità al fatturato e al business perché ha l'agenda che esplode abbiamo costruito un piccolissimo test questionario per fare un po di autoanalisi sui propri prezzi il prezzo è uno delle questioni che ciclicamente ci rende le notti insonni insieme alla parola fatturato insieme alla parola f24 di solito sono queste tre che ci tengono un po svegli e dico che lo fa ciclicamente perché dovrebbe farlo ciclicamente cioè dovrebbe tenerci svegli ciclicamente anche se spesso e volentieri succede che messo giù il prezzo una volta mi sono tolto questa rogna punto e ci troviamo magari ad affrontare il singolo caso la singola contestazione o negoziazione con il cliente rispetto a una proposta economica molto specifica allora il tema del prezzo provo a fare un sondaggio così quick and dirty quanti di voi in questo momento indipendentemente dalla fase del vostro business inizio maturità cambio sentono di farsi pagare il prezzo giusto meno della metà di sicuro non vi ho contati ma direi quanti di voi sentono invece che proprio si fanno pagare troppo poco ok vi fate pagare insomma ma potreste farvi pagare di più potreste dovreste è poi lì in mezzo la cosa allora per ragionare un po insieme su questo tema c'è da capire che come c'è cos'è il prezzo giusto no perché uno dice sento che potrei farmi pagare di più no mi sembra prezzo giusto chi decide se il prezzo è giusto allora sicuramente trattandosi di un contratto il prezzo giusto chi lo stabilisce io c'è qualcuno e il cliente ok il prezzo giusto è quello per cui noi ci sentiamo almeno soddisfatti di quello che ci siamo fatti pagare e quello per cui il cliente ritiene di aver pagato il giusto per quello che si è portato a casa ok l'incrocio la sovrapposizione tra queste due cose è il prezzo giusto allora qui poi si aprono delle questioni esistenziali belle toste su questa semplice definizione tu ti sottovaluti o ti sopravvaluti questa è la prima questione esistenziale ognuno di voi si dà una risposta su questo e tendenzialmente secondo me sa o dovrebbe sapere se si colloca se ogni tanto scivola più da una parte o più dall'altra e questa cosa è fondamentale la sindrome dell'impostore a tal proposito è un argomento molto gettonato qui al freelance camp ormai da anni ma che non passa mai di moda e c'entra ben ben bene con questa roba che che vi ho appena mostrato la seconda questione esistenziale è questa il cliente sa che cosa ha comperato capisce che cosa ha comperato anzi scusate perché questa cosa non sempre accade ok il cliente compra sicuramente qualcosa e tendenzialmente compra qualcosa di cui pensa di aver bisogno ma che cosa ha comprato esattamente non sempre così chiaro soprattutto per chi di noi e credo che praticamente tutti o quasi ci collochiamo qui vende servizi ok dove il cliente piglia una cosa finale ma quello che ha comperato è tutto il processo produttivo del nostro servizio più il know how più la nostra esperienza più bla 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 una serie lunga serie l'elenco ma tutta questa roba qui spesso il cliente non sa di averla comperata e questo gioca pesantemente sulla percezione sua del prezzo giusto o non giusto questa cosa che forse sembra più evidente quando parliamo di servizi in realtà vale anche per oggetti materiali penso a qualche chiacchiera che ho fatto stamattina durante la passeggiata cioè comprare un oggetto pronto e assemblato smistato scelto o comprare un oggetto che è stato progettato anche realizzato non è comprare la stessa cosa io abito a venezia e la gente tantissimi turisti che non sanno cosa comprano comprano gli oggettini di vetro a 5 euro perché li hanno comprati a venezia ma non stanno comprando il vetro di murano che è fatto a venezia in un certo modo non sanno quello che stanno comprando vedono oggetto vedono prezzo questo costa un decimo dell'altro è la stessa cosa perché lo guardiamo così e sembra lo stesso ma non sanno quello che stanno comprando e anche qui ovviamente ha molto a che fare tutto questo elemento se volete con il livello di conoscenza che i nostri clienti hanno del prodotto servizio aggiungo e lo dico sottovoce anche con il fatto che noi rispetto al nostro cliente ci facciamo carico o abbiamo voglia di farci carico di un po di acculturazione del cliente rispetto al prodotto servizio che voglio che gli stiamo vendendo ok non sempre ci possiamo permettere di aspettarci che il cliente lo sappia esattamente abbiamo quei pochi clienti di solito i nostri preferiti che sanno bene che cosa stanno comprando e tutto il processo che c'è dietro ma la maggior parte dei nostri clienti non appartiene a questa tipologia magari ne sa un pezzo ma non tutto l'altra cosa secondo me questione esistenziale sempre interessante è il cliente quando ha la percezione del valore che cosa intendo dire allora prima vi dicevo il cliente sa che cosa sta comperando però il cliente c'è un momento in cui oltre ad avere l'oggetto in mano percepisce che quella roba li vale per lui ok io che mi compro un paio di scarpe nuove quando ho la percezione del valore quando me le indosso mi guardo allo specchio e dico che belle sono queste scarpe o ci cammino una giornata e dico mi sembra di essere stata scalza tutto il giorno ho la percezione del valore dell'oggetto che ho comprato dopo che l'ho utilizzato ci sono business o ci sono oggetti di cui abbiamo la percezione del valore anche prima di comprarli o di utilizzarli scusate in altri casi ce l'abbiamo durante l'utilizzo in altri casi ce l'abbiamo dopo allora anche questo aspetto qui non è banale rispetto allo stabilire il prezzo ma vado in un terreno non mio ma che è di molti di voi anche nello scegliere come comunicare il prodotto e servizio perché io sto vendendo così io sto vendendo qualcosa che il cliente apprezza dopo che l'ha utilizzato ma io il prezzo glielo faccio pagare prima e lui potrebbe percepirlo alto perché in realtà si accorge che quella roba vale dopo io di questo gap temporale devo tenere conto e poi succede vi parlo per esperienza personale abbastanza recente ho frequentato un corso in cui mi sono iscritta un corso dicendo proviamo perché non era particolarmente costoso e alla fine delle due giornate di corso sono andata dagli organizzatori e gli ho detto dovete quadruplicare il prezzo di quello che vendete l'avete regalato la roba che vendete vale molto di più ok però io non avevo quando ho letto la loro proposta la percezione del valore che mi sarei portata a casa e non era una percezione solo mia è una percezione di tutte le persone che sono state lì anche di altre edizioni giusto però per dire per cui ci sono cioè secondo me questo triangolo delle bermude di domande che sono domande importanti da farsi e da rifarsi anche ciclicamente rispetto a questo questo è il primo pezzo diciamo così che riguarda proprio strettamente te cliente che quello che poi anche nella fase negoziale o banalmente di contatto è il primo no che sì e secondo me su questa prima su questo primo tempo prima di arrivare al secondo alla cornice più grande quella che va oltre me il cliente ma è me nel mercato dipende anche quali sono i criteri che noi utilizziamo per capire se mi sento soddisfatto di quello che mi stanno pagando in questo momento no per cui per esempio c'è un tema che riguarda il tempo che io ho impiegato no che è uno dei criteri basici che tutti utilizziamo ci ho messo x ore alla fine sono stato pagato totta l'ora e tanto e poco mi soddisfa questa un criterio utilizzato l'altro che per esempio su cui non sempre si fa l'aggiornamento il check è per esempio tutto il tema della competenza no quindi quanta competenza ci vuole per fare questa cosa nel modo in cui la faccio io quella cosa va prezzata ma in qualche modo noi stessi dobbiamo trovare un balance rispetto alla percezione che ne abbiamo perché dopo dieci anni che faccio lo stesso mestiere io ho maturato molta più esperienza competenza lo faccio sicuramente meglio rispetto a quando ho iniziato e se io continuo a essere pagato uguale non avrò la percezione di sentirmi ben pagato per quello che sto facendo perché dico eh no mi stanno pagando come dieci anni fa che ancora facevo le cose che devo riguardarle quattro volte che sbagliavo per cui ci sono dei criteri che noi utilizziamo che vanno anche revisionati in qualche modo quali sono i criteri che invece usa il cliente per dire se il prezzo è giusto o no il cliente tendenzialmente non dovrebbe e se lo fa va opportunamente stoppato entrare nel merito di quanto tempo ci metto io a fare le cose quanto tempo ci metto io a fare le cose è un problema mio cliente entra nel merito del quanto mi risolvi il problema che ho punto quello il criterio con cui il cliente deve attribuire il prezzo ma nei fatti è quello che fa ecco perché prima vi dicevo anche quando la percezione del valore o che gli hai risolto un problema il problema quando se ne accorge è importante rispetto al prezzo e a quando e a come lo racconti c'è qualcuno che utilizza il come dire punto di riferimento tempo prezzo orario per fare i suoi prezzi lo utilizzate nel senso in per il vostro calcolo interno o lo usate in trasparenza anche con il cliente sì io lo utilizzo però internamente cioè serve a me come riferimento base sotto il quale tendenzialmente non posso scendere oppure mi accorgo che se ci sto impiegando di più allora sto il ricavo effettivo al di là del fatturato ci sto prendendo qualcosa quindi lo uso però il cliente non lo deve sapere necessariamente quanto tempo ci impiega noi due siamo assistenti virtuali e noi c'è il nostro lavoro si basa sul fatto che lavoriamo a ore per qualcuno per cui delle persone acquistano delle ore del nostro tempo quindi è proprio relativamente a quello c'è anche la l'opzione a progetto e ma lì sempre di più per me è importante valutare bene il pacchetto che offro perché ovviamente c'è una soglia dove non se non devo assolutamente scendere in teoria quindi dipende molto dalla tipologia del lavoro per esempio un lavoro creativo non so l'ideazione di un logo è assolutamente fuori dal calcolo del tempo può essere anche fuori per me dal calcolo del tempo io ho realizzato dei loghi in brevissimo tempo e altri in tempi maggiori insomma la creatività pura secondo me non è un calcolo temporale ma per esempio se faccio formazione vendo un pacchetto di ore in quel caso lì c'è un costo orario esplicitato nel senso e tra l'altro secondo me a volte è una leva commerciale perché il costo orario magari ha un valore e invece il pacchetto la formazione continuativa è ci hanno dei costi diversi e quindi diventa una leva commerciale per vendere magari di più e fare insomma per me è un mix nel senso che lavoro a progetto quindi per avere un'idea anche io mi faccio un calcolo interno orario però in realtà poi come dire gli do il valore che credo io di dare a quel progetto lì ma metto una quota oraria per gli extra quindi ad esempio tutte le revisioni perché faccio loghi anch'io quindi l'ideazione è indipendente dal tempo ma se mi chiedi 15 revisioni quelle sono vanno su base oraria perché io invece volevo introdurre non solo il tempo nel mio caso che non riesco assolutamente a quantificare ma ho il fattore non so bene come definirlo in modo gentile rottura di scatole nel senso che faccio alcuni lavori che sono e lo so per esperienza dopo dieci anni potenzialmente molto fastidiosi customer care per esempio da qualche anno influencer marketing la gestione delle influenze e non so quanto tempo mi portano via ma so che mi porteranno fatica e uso il fattore fatica per calcolare è fantastico. Noi in Palabra facciamo i preventivi facendo una stima del tempo che impiegheremo e anche del tempo a seconda delle persone del costo diciamo virtuale che diamo alle persone in realtà poi questo ci serve come indicazione sotto la quale non andare poi il fattore correttivo è quanto sei un cliente che mi farà diventare matta e anche comunque il task e il valore che produco cioè anche noi sappiamo ci sono cose la strategia a un certo punto dopo vent'anni che la fai non è che ti impiega giorni e giorni e giorni e non per questo la devi far pagare di meno sennò anche però il tipo di cliente viene valutato anche non solo in base a quanto sai che ti farà diventare matta o quanto è piacevole interessante lavorare con loro ma anche la dimensione la portata del lavoro che fai perché lo stesso lavoro per il micro e-commerce comunque non avrà mai il prezzo che ha per qualcuno che fa 300 spedizioni al giorno o mille spedizioni al giorno grazie nel senso che come vi siete ben resi conto cioè rispetto a questa domanda non c'è una risposta univoca perché però credo che la cosa importante sia sicuramente fare dei ragionamenti che uno abbiano a che fare con la differenziazione rispetto ai vari servizi o prodotti che vendiamo no perché se io vendo la strategia o se vendo una serie di attività operative sto vendendo al cliente degli oggetti dei servizi che hanno per lui un valore diverso quindi se io sto facendo per te qualcosa che ti consente di sviluppare il tuo business per anni o che ti risolve un problema adesso ti sto vendendo cose diverse allora anche qui cerchiamo di capire che mestiere facciamo noi che tipo di problema risolviamo al cliente e che tipo di consulenza gli stiamo facendo strategica la strategia vale di più di una questione operativa e che ci piaccia non ci piaccia pensarci con l'intelligenza artificiale sarà bene che ci pensiamo a questa domanda in maniera molto più puntuale perché l'intelligenza artificiale forse prima di fare strategia ce ne mette un po su tante questioni operative cioè ci giriamo l'angolo e fra due anni ci staremo parlando di qualcos'altro qui tra noi quindi cioè ci sono dei valori molto diversi anche da far percepire al cliente anche da apprezzare diversamente che è diverso dal un'ora del mio lavoro vale x dipende che cosa faccio in quell'ora ok non non è uguale tutto ciò che faccio quindi anche rispetto adesso non lo so a chi invece ha come dire un business che vende del tempo in cui ti faccio delle cose credo che il contenuto di quel tempo dipende quanto è differenziato e che livelli di know how richieda dentro di specializzazione abbia come dire delle competenze diverse stamattina Antonella Caffaro non c'è ancora stavamo facendo un ragionamento fate un lavoro che vi somiglia rispetto di ok gestisco le fatture di un cliente ma gestisco fatture italiane o estere il livello di complessità e di conoscenza che io devo avere su una fattura e non è che gestisco fatture appunto me le chiedi di gestire di dieci paesi o di un paese su cui fatto uno quante dico banalmente è sempre gestione fatture ma non stiamo parlando della stessa cosa e questa cosa in qualche modo al cliente bisogna farla comprendere e va apprezzata diversamente per cui la domanda è differenziamo su prodotti servizi ci abbiamo fatto un ragionamento abbastanza puntuale rispetto a queste cose perché anche quello contribuisce l'altra cosa che mi è piaciuta moltissimo che ha detto senza occhiali non vedo Stefania grazie è questa cosa meravigliosa del la rottura di scatole no cioè quanta energia io ci metto in quella quanta energia mi costa che non è solo il tempo è l'energia emotiva l'energia cioè se faccio una cosa che non mi piace e lavoro un'ora quella roba lì in termini di fatica per me è x se invece faccio una cosa che mi piace in quell'ora anzi probabilmente forse ci metto anche un'ora meno cinque minuti magari quindi faccio efficienza e faccio margine ma ha come dire anche quella un valore per me non va in trasparenza il cliente ma io quando faccio il prezzo ci devo ragionare devo anche capire se quel prodotto servizio è funzionale per me allo sviluppo del mio business al dove voglio arrivare oppure no perché succede e forse chi di noi la partita IVA aperta da un po' lo sa che ci sono momenti in cui dici ok da adesso a tre anni questa roba qua non la voglio più vendere ok come inizio però in questo momento la vendo e mi fa buona parte del fatturato come mi sposto da un'altra parte lavoro sulla comunicazione lavoro sul prezzo ok per disincentivare o incentivare determinate cose per cui anche il la voglio o non la voglio fare perché mi peso perché è funzionale al dove voglio arrivare in termini di business è un'altra domanda che sul prezzo deve per forza avere degli impatti un'altra componente che può essere interessante considerare per esempio l'urgenza cioè io l'ho fatta diventare per esempio un mio specifico nel senso io lavoro molto bene sull'urgenza e quindi risolvo un sacco di problemi velocemente e questo col tempo è proprio contrario all'idraulico ti chiama di domenica o tu dici ho bisogno di un intervento urgente ti applica il sovrapprezzo anche per me è uguale io risolvo velocemente le questioni quindi il tempo fisico in questo caso è il contrario di quello che calcolo perché però con gli anni di esperienza riesco a farlo molto velocemente il tempo noi siamo abituati a vederlo semplicemente come tempo per cui è facile metto un prezzo al tempo quello è il mio prezzo in realtà se noi siamo più veloci non è che ci pagano il doppio e noi abbiamo dato più valore quindi dovremmo iniziare a vedere il tempo non in funzione di una grandezza continuativa ma in funzione della velocità quindi nel momento in cui sono in grado di azzerare abbassare questo tempo il mio valore deve crescere non deve diminuire perché altrimenti sì sì qui è tutto il tema del ok cliente ti porto questo valore ti risolvo il problema oggi prezzo e ci metto mi devo andare in copertura poi Alessandra diceva c'è un calcolo no ed è un calcolo che è una forbice dico ok ci metterò tra la mezz'ora e l'ora quindi sotto questo tetto non posso scendere di prezzo mi applico il margine di guadagno che ci voglio applicare perché anche qui tra fatturare il processo produttivo o marginarci insomma è un'altra quid interessante perché non sempre quel pezzettino lo applichiamo lo applichiamo come tampone d'emergenza nel caso avessi sbagliato la stima dei tempi ma invece il tema è che noi dobbiamo pure farci del margine su quella roba lì ok se noi leggiamo questa roba come processo produttivo cioè io gestisco tutto il processo dalla produzione alla vendita è il tempo di vendita chi me lo paga ok cioè quando io vado in negozio a comprare una cosa io pago il processo produttivo pago anche la distribuzione la vendita la cosa pago tutto e noi ci dimentichiamo spesso e volentieri un altro pezzo no perché lo diamo per scontato e quindi anche gli aspetti di ok ti porto valore poi io dietro faccio efficienza perché riesco a diminuire il tempo vuol dire che aumento il margine il mio tempo di produzione si accorcia quindi i costi di produzione si accorciano e aumento il margine in questo caso lo stai vedendo sempre da un punto di vista tuo nel senso io no io voglio farlo vedere dal punto di vista del cliente nel senso il fatto che fatta questa base al di sotto di cui non si scende se tu mi chiedi un lavoro e io quel lavoro sono in grado di dartelo nella metà del tempo che tu ti sei aspettato non è un regalo quel tempo che tu hai guadagnato è un tempo che io devo guadagnare quindi non è semplicemente fare margine è fare margine più aver dato un valore maggiore perché il ti ho consegnato in anticipo tu mi stai parlando di questo no in qualche modo rispetto alle tue aspettative non rispetto al nostro accordo però rispetto alle tue aspettative per cui io ti posso tranquillamente dire come fa come fa michela se tu lo vuoi per entro dieci giorni ti costa x se tu lo vuoi entro cinque ti costa x per due secondo me l'impasse è il costo orario a meno di vendere tot ore del proprio lavoro è veramente il costo minimo poi dopo c'è un mondo sopra la famosa barzelletta del tipo col macchinone il mercedes da 100 mila euro che resta fermo in mezzo alla strada arriva il meccanico apre il cofano gira una vite col cacciavite chiude la macchina riparte oh bellissimo quant'è 100 euro come 100 euro è fatto così però io so fare così tu hai un macchinone che prima era fermo quindi se io vendo un servizio a un cliente che gli permette di risparmiare 10 mila euro perché se no deve avere degli impiegati che fanno le cose a mano io glielo automatizzo se ci metto due ore automatizzarlo non gli posso far pagare due ore per il mio costo orario io gli posso anche chiedere 2000 euro perché lui non è che ne ha spesi 10 mila ne ha risparmiati 8 ecco questa che raccontava angelo è una strategia vincente laddove siamo in grado di farlo ma sarebbe opportuno che per qualcuno dei nostri prodotti servizi fossimo in grado di farlo di quantificare al cliente o il beneficio risparmio che gli portano perché su questa cosa qui banalmente e anche qui si apre un'altra questione interessante è facciamo dei sondaggi con i clienti rispetto a ritieni di aver pagato il giusto prezzo per quello che ti ho dato lo facciamo puntualmente alla fine di ogni contratto sì no quanto sarebbe stato per te il prezzo giusto da pagare per quello che hai avuto no ci sono una serie di sondaggi di questo tipo ormai per me per esempio la domanda sul prezzo fa parte del questionario standard che io mando alla fine di ogni lavoro ed è utilissimo utilissimo però anche su questo non so se è comune a qualcuno di voi su questo spesso ci sono dei pudori nel parlare di prezzo perché non sta bene chiederti se il prezzo che hai pagato è giusto sei contento o non contento no per cui perché c'è un po questa cosa il dire ognuno tira l'acqua al suo mulino se partiamo e quindi o tu mi vuoi fregare o io ti voglio fregare due sono le però se partiamo dal presupposto che il prezzo giusto è quello giusto per tutti e due parlarne non è un tabù no il tema che diceva lui secondo me che poi ritorno al tema della negoziazione cioè noi siamo abbastanza abituati a parlare di quanto vale un'ora del nostro tempo per noi ma forse la domanda in più che ci dovremmo porre anche quanto vale un'ora del nostro tempo per il nostro cliente o quanto vale quello che stiamo facendo per il nostro cliente perché è lì che poi c'è l'incontro chiaramente come diceva lui si giro la vite ma ti risolvo la vita partendo dal costo basico che chiaramente devo calcolare bla 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 con tutti i bei excel che ci facciamo ma poi c'è un valore in più quindi il tema è se io ti ho risolto un problema che magari erano anni mesi o che comunque ti ha fatto fare uno scarto di fatturato per esempio di un certo tipo e lì ovviamente poi c'è il margine sul margine no vorrei aggiungere una cosa quello che diceva luigi sul tempi sull'urgenza il tema è che cosa ha valore per gli altri cioè mi hai fatto venire in mente ad esempio che quando ordini qualcosa su pixar printing ti fanno vedere un prezzo per consegnartela domani o fra due giorni poi in realtà tu puoi scegliere di fartela consegnare fra due settimane allora non è necessariamente vero che consegnare prima per forza di cose un vantaggio nel senso che io potrei avere pianificato di ricevere le cose che mi fai tu fra due settimane prima non ho tempo sto facendo altre cose non me ne faccio nulla quindi che tu mi dica ti faccio pagare di più ti offro di pagare di più per consegnarmi le prima non mi interessa quindi anche qui stiamo attenti ad applicare comunque diseguamente delle formule dopodiché appunto fa tutto parte del mettere tenere in equilibrio cosa costa a me e cosa vale per il mercato per quel tipo di segmento di mercato il mio lavoro che valore genero e ad un certo punto potrebbe pure darsi che a me costa troppo rispetto al valore che genero cioè ieri parlavamo di principio di realtà io ricordo nel mio famigerato talk sui conti della serva la mia conclusione era quando avete capito quanto dovreste farvi pagare allora chiedetevi in maniera molto onesta li valgo tanto perché non è che se un cliente paga 100 deve ottenere 100 cioè se un cliente paga 100 noi il vantaggio che deve avere dal lavoro che noi facciamo è mille perché se no what's the point sì e a tal proposito venendo la seconda grande come dire cornice su cui farsi le domande hanno proprio a che fare con il mercato no per cui il tema è conosci il tuo mercato questa è la grande domanda che cosa vuol dire conoscere il mercato vuol dire conoscere soprattutto chi sono i nostri competitor quindi avere delle conoscenze di base sul settore proprio in settore di business in cui operiamo su quali sono le tendenze del settore e almeno poi anche qui nel perimetro geografico nel quale noi vogliamo vendere oppure in senso lato però anche su questo spesso e volentieri ci sono diciamo così delle reticenze per diversi motivi uno perché in alcuni business non è facile reperire informazioni sui prezzi che applica la concorrenza cioè c'è poca trasparenza di prezzo in moltissimi ambiti questo è un freno in altri ambiti anche dove si può trovare in qualche modo l'informazione a me capita spesso di parlare con persone che dicono no ma io non voglio guardare quello che fanno gli altri perché poi mi deprimo per cui c'è chi usa come dire anche questo discorso dice vabbè non importa se i clienti mi pagano vuol dire che va bene così e l'altro tema è che non sempre abbiamo le idee chiare su chi sono i nostri competitor che non necessariamente sono tutti quelli che producono quello che produciamo noi o che vendono quello che vendiamo noi ma dipende anche quante idee chiare abbiamo sul prodotto servizio e sul come lo facciamo noi e su a chi lo vogliamo vendere perché le famose nicchie sono anche delle nicchie non solo di mercato in termini di bisogni ma alle volte sono anche delle nicchie di prezzo no di possibilità economica su cui noi stiamo puntando il fatto di dire ok tutti vorremmo i clienti alto spendenti no chi non li vorrebbe i clienti alto spendenti però dire è lì che voglio posizionarmi si porta con sede le decisioni e le decisioni sono che i clienti sotto un certo prezzo io non li prendo perché se no tu non stai dicendo che vorrei posizionarmi lì ma posizionarmi lì non è un obiettivo se è un obiettivo ci devono filare dietro delle decisioni che alle volte possono anche inquietarci un po perché mollare giù il cliente ieri faccio una battuta durante il il talk di luisa cioè il cliente anti economico perché è anti economico uno perché sto vendendo in perdita ok ma delle volte anti economico perché non è quello su cui mi voglio posizionare quindi è anti economico nel senso che non è funzionale al business che io voglio fare e anche questo non è semplicissimo da identificare agli soprattutto all'inizio magari si va un po per prove d'errori e ieri credo a pranzo in maniera molto divertente qualcuno diceva no io una nicchia di mercato non me la sono immaginata io ma me la sono trovata tra le mani strada facendo e in realtà la nicchia di mercato che ho mi piace mi sono accorta che è giusta per me ottimo fantastico continuo a puntare su quella però è come dire un altro perimetro un'altra domanda da farsi rispetto a questo e poi sempre per per concludere perché questa cosa ci interessa perché devo sapere cosa c'è in giro se il cliente deve scegliere me e non qualcun altro io non posso non sapere quali sono le altre alternative che il cliente ha sul piatto e stamattina sempre passeggiata ed è sempre molto bello lo scambio che c'è qui rispetto al conoscere i prezzi della concorrenza lei mi raccontava dice io ho ordinato delle cose dalla concorrenza ma non le ho ordinate io perché se guardano chi sono e scoprono che io sto facendo come dire eh sì l'indagine di mercato dietro le quinte quindi la faccio ordinare a nome di un altro è l'altra cosa che si fa spesso è anche alle volte quello di dire chiedi un amico fatti fare un preventivo per questa cosa chiama quello lì che voglio capire come ti fa il preventivo e quanto si fa pagare cioè si può fare ci sono le grandi aziende che lo fanno sistematicamente pagano delle società di consulenza per fare l'indagine di mercato che si fingono clienti perché non lo possiamo fare noi con qualche amico e l'altra e ultima credo domanda rispetto a questo è capire prima dicevamo prodotti e servizi su quali prodotti e servizi io in termini anche di qualità di quello che faccio sono in linea con il mercato perché se io vendo un livello medio di qualità rispetto al mercato probabilmente la mia risposta sarà mi devo tenere più o meno sul prezzo medio di mercato ma se dal punto di vista qualitativo ci sono cose che io faccio meglio dei miei competitor io su quello sono assolutamente autorizzato ad alzare il prezzo rispetto alla media di mercato perché vendo qualcosa che mi distingue di molto rispetto agli altri però sono domande a cui io posso avere risposta solo se ci metto la testa e faccio un po di indagine sugli altri questo è un posto bello perché anche se siamo tra competitor non ci leggiamo come tali e quindi non abbiamo pudori anche a raccontarci di queste cose e io lo trovo sempre molto utile e alle volte bisogna usare degli strumenti di indagine un po più questi sono dei temi sui quali io ho ragionato molto quindi mi piace mi piace davvero tanto questo argomento e uno dei miei dei miei mantra quando ho iniziato a ragionare su queste cose era il fatto che qualsiasi lavoro tu faccia ti verrà sempre giudicato in base a qualità tempo non tempo impiegato ma tempo velocità e il costo finale il cliente che è una persona semplice ragiona sul costo e se noi iniziamo il mio mantra è quello che nel momento in cui io inizio a discutere il mio prezzo vuol dire che non ho più nessun argomento da giocarmi sul tema della qualità e sul tema della velocità quindi ho finito di ho smesso quel quell'ambito e quindi cerco di non andare mai a discutere il prezzo ma sempre continuando a parlare di qualità e di velocità dovremmo farlo come tu hai detto prima che questi sono ragionamenti guardando alla concorrenza dovremmo farlo anche verso noi stessi e non paragonarci alla concorrenza in base al prezzo ma cosa mi manca a me sulla qualità e sulla velocità che quell'altro concorrente è in grado di dare se io capisco questo e quindi come dici tu faccio l'ordine per capire come funziona il suo il suo servizio e quindi in quale ambito sul punto di vista della qualità e sul tempo è migliore di me io imparo se vado a guardare soltanto quanto lui fa pagare e mi confronto soltanto su quello sto comportandomi da una persona tra virgolette semplice quanto il cliente che guarda soltanto il costo per me questa cosa è importante tenere presente che quando parli del prezzo hai finito di parlare di altro secondo me una delle delle cose che tengo sempre ben chiare sì sì perché dietro c'è sempre il tema che dicevamo prima del del valore no e il valore è fatto della qualità come dici tu della tempistica di consegna poi appunto anche qui dipende molto da cosa vendiamo ma ci sono delle caratteristiche che hanno a che fare con il valore che percepisce il cliente che è quello che poi è disponibile a pagare in qualche modo e che mi differenzia dagli altri ok basta io ho finito con le domande come vedete ho tante domande poche risposte ma chi fa il mio mestiere lavora con le domande grazie grazie fabiana grazie anche a pamela con cui hai preparato questo lavoro